Non so usare un aggettivo orgoglioso, felice, vedi lo dicevo a Dechi dopo la partita, io non ho fatto niente qui, ma lo dico come la mia semplicità, io non ho fatto niente, non ho vinto niente, anzi abbiamo anche finito non bene, quindi quando ricevi questi attestati di stima nel calcio è qualcosa che va al di là, è qualcosa di personale. Io non so se sono un bravo allenatore, ma sono una persona semplice e diretta, quindi credo che i tifosi interisti abbiano apprezzato questo, io qua sentivo qualcuno che diceva cavolate, tipo rivincite, rivalsere, ma non vuol dire che non sanno niente, che non conoscono i rapporti che hai con le persone, con chi lavora ancora qui, con i tifosi, con i giocatori. Io non mi vergogno di dirlo, anche se ovviamente adesso lo sapete, l'avete visto stasera il mio impegno al 101% sull'Udinese, che spero sarà il mio futuro a lungo, un pezzetto del mio cuore sarà sempre dell'Inter, perché per me l'Inter è rappresentato il mio esordio in Serie A all'inizio di un sogno e io quindi me la porterò sempre dentro. Per questo a me è emozionato, preferisco vincere con il Milan, insomma, questo è il punto.